Ragazzi, ciao, come va? Tutto bene? Benvenuti a un altro video del nostro centro culturale italiano di Nova Friburgo. Questa volta ho deciso di fare il video, di registrarlo prima, perché così posso usare alcune risorse del computer per potervi mostrare alcune cose, soprattutto perché oggi vogliamo parlare della settimana della lingua italiana nel mondo. Ecco, vi mostro la locandina, l'immagine dell'invito. Ok, aspetta un attimo che vi mostro. Ecco qua, questa è la ventesima settimana della lingua italiana nel mondo. L'italiano tra parola, immagine, graffiti, illustrazioni e fumetti. Quindi, cos'è la settimana della lingua italiana nel mondo? È praticamente una serie di avvenimenti che succedono una volta all'anno, quindi è già il ventesimo anno in cui si fa questo tipo di commemorazione, molto interessante, molto benvenuto a questo tipo di iniziativa da parte del governo italiano. Qualche anno fa l'abbiamo festeggiato anche noi qui a Nova Friburgo, abbiamo fatto una serie di iniziative culturali. Purtroppo, in questi tempi di virus, di pandemia, non l'abbiamo potuto ripetere di nuovo. Ma comunque non potevo lasciare passare in bianco, soprattutto perché uno dei temi di questa settimana della lingua italiana nel mondo sono esattamente i fumetti, che sono una mia grande passione. Quindi parliamo un po' anche di fumetti oggi. E parlo anche, vi ricordo, una iniziativa di qualche anno fa in cui ho cominciato a usare anche i fumetti nell'insegnamento dell'italiano. Quindi è stata un'iniziativa molto interessante. Poi vi mostrerò il risultato. Ma comunque, usare le immagini, usare le illustrazioni, i fumetti, insomma, è molto interessante per insegnare la lingua italiana, per imparare la lingua italiana a qualsiasi altra lingua. Quindi andiamo per parti. La settimana della lingua italiana nel mondo è una iniziativa del governo italiano e è già finita. Va bene. Vi parlo, ve ne parlo però quando è già finita. Comunque ci sono state varie iniziative nel mondo. Purtroppo, chiaro, con questa pandemia non ci sono state, diciamo così, molte, molte iniziative. Anche qui non abbiamo potuto fare molto. E uno degli argomenti, diciamo così, una delle linee di questa settimana, di quest'anno, è stato esattamente l'italiano tra parola e immagine, graffiti, illustrazioni e fumetti. E allora, è qui, approfitto quindi di questa occasione per riflettere come per imparare una lingua, per imparare e per insegnarla, come le immagini sono importanti, sono interessanti, sono praticamente delle risorse estremamente interessanti. Mi ricordo che qualche anno fa, quasi, mamma mia, quasi 17 anni fa, quando ho fatto il master in didattica della lingua italiana a Caffoscari, a Venezia, la mia tesina è stata esattamente sull'insegnamento dell'italiano attraverso le immagini e a quell'epoca io avevo fatto delle lezioni, delle iniziative con gli alluni, dopo vedremo anche alcuni risultati, esattamente di usare i fumetti e le immagini. Eravamo nel 2002, credo, 2003, quindi immaginate, per esempio avevamo utilizzato, avevamo cominciato a utilizzare una macchina fotografica digitale, uno dei primi modelli, molto molto semplici ancora, ma che adesso con tutte le tecnologie che abbiamo sicuramente è molto facile. Quindi insegnare l'italiano e impararlo attraverso le immagini è molto interessante, è uno strumento molto interessante e i fumetti sono delle... è un'arte, io difendo che il fumetto è una sintesi tra la letteratura scritta e il cinema, per esempio, io credo che sia una specie di sintesi, sta nel mezzo tra la letteratura scritta, il libro e il cinema, quindi perché hai delle sequenze di immagini e anche la scritta, quindi credo che sia uno strumento interessantissimo, è un'arte secondo me ed è uno strumento interessantissimo per imparare una lingua italiana, una lingua, in questo caso la lingua italiana. Ed è interessante come in Italia c'è una tradizione molto molto forte di fumetti. Vi mostrerò alcune immagini di alcuni fumetti italiani presi a caso, ma l'Italia ha degli autori di fumetti che sono molto conosciuti in tutto il mondo, fanno un lavoro spettacolare, quindi vale la pena di usare i fumetti per imparare, di leggere i fumetti per imparare la lingua italiana. È interessante una piccola curiosità. Si dice fumetti esattamente perché fa riferimento al balloon, a quella specie di fumo, di balloon che esce dalla bocca dei personaggi. L'Italia, in italiano, si dà enfasi a questo aspetto e quindi la parola fumetto viene appunto da questo fumo, un fumo che esce dalla bocca dei personaggi che è praticamente la battuta del personaggio. quando il personaggio parla. Vediamo se ho qualche esempio qua. Ecco, vedete, in questo caso questo è un fumetto Ratman, è un fumetto più recente, un comico. Vedete, il fumetto esattamente è questo balloon che esce dalla bocca del personaggio. Già in portoghese, per esempio, che noi diamo enfasi a un altro aspetto visuale dei fumetti che sono questi quadretti, la forma con cui queste immagini sono divise e la sequenza delle varie immagini. Quindi in portoghese noi chiamiamo di quadrinhos. Quindi ogni lingua ha il suo modo di disegnare, di chiamare questa questa specie di arte, è un'arte e che è lì, come vi ho detto, è tra la letteratura scritta e, a mia opinione, il cinema perché siccome ci sono le sequenze delle azioni, delle scene, mi ricorda molto, mi ricorda molto anche il cinema, ok? Quindi questa io trovo che sia fantastico leggere i fumetti, fare i fumetti e usarlo per imparare e per insegnare la lingua italiana. Vi consiglio farlo, vi consiglio di farlo. Qui rapidamente alcuni, alcuni, quindi, visto che vi ho già mostrato, alcuni personaggi famosi, italiani, per esempio, Tex, Tex è un fumetto italiano, anche lì, ha tantissimi anni già che esiste e appunto racconta la storia di questo di questo pistolero, no? Tanto il nome è abbastanza chiaro, quindi è un classico, non so quante decenni, no? Quanti anni già esiste Tex, ma sicuramente più di 40 anni. Un altro grandissimo personaggio dei fumetti italiani, guardate che è ben disegnato, è Corto Maltese, questo navigatore disegnato da Ugo Pratt, vedete che qualità di disegno, no? Qui è Ratman, no? Vediamo se abbiamo la foto, questo è una vignetta, no? del Corto Maltese, no? Vedete com'è, questo Corto Maltese è interessantissimo appunto perché gira per tutto il mondo, quindi quando si quando si legge un fumetto di Corto Maltese si conosce un po' tutto il mondo, no? questo è il personaggio Ratman, che è molto più recente, più, come dire, più comico, però anche lì ha fatto un enorme successo in Italia, quindi che per ridere un po', oh ecco, questo qui è Dylan Dog, Dylan Dog è un personaggio anche lì molto conosciuto, sono storie che parlano di misteri, un po' dell'horror che in Italia va alla grande, questo se non mi inganno è il primo numero, il primo numero di Dylan Dog, che sicuramente varrà un sacco di soldi e questa è una vignetta ecco di Dylan Dog, vedete il tipo di disegno e come si possono fare, no? Tante cose, tanti esercizi, tante letture, come si può imparare una lingua attraverso i fumetti, no? Quest'altro, ecco, questo è Milo Manara, bellissimo disegno, no? L'Italia ha una tradizione molto grande anche di personaggi, di fumetti adulti, Milo Manara disegna fumetti la maggior parte per adulti, ci sono anche altri, Valentina, di Crepax, insomma, tantissimi, sto citando soltanto alcuni, ma sono fumetti a volte per adulti, questo è Diabolic, Diabolic, è anche lì un classico del fumetto italiano, inclusive ho letto questi giorni una notizia che ci sarà un film su Diabolic, quindi Diabolic diventerà un film, è molto interessante questo personaggio e anche lì serve molto per imparare la lingua italiana. molto bene. Vi mostro, scusate, vi mostro, ho bevuto un bicchiere d'acqua, vi mostro quello che scusate, quello che abbiamo fatto tanti anni fa, vedete, ecco qua, questo era un fumetto di una striscia, una paginetta soltanto del personaggio della Disney, Paperino, Paperino e le delizie del palato, quindi abbastanza semplice, basicamente vedete, c'è Paperino e Margherita che non mi ricordo nemmeno se Margherita era così il nome di Margherita in italiano, so che Paperino è il pato Donald del portoghese e vediamo qua come si chiama Paperina, ecco, Margherita in portoghese è Paperina, quindi Paperino e Paperina, vedete che Paperina arriva e lo sorprende mentre si gusta lì un milkshake, no? e dice Paperino non posso credere che tu sia di nuovo qui a trangugiare un altro di quei gelatoni che ti fanno ingrassare e lui risponde ma ma cara sono i migliori della città perché non le prendi uno anche tu? e lei dice neanche per sogno sono pieni zeppi di vuote calorie però sono calorie molto saporite non mi importa non uscirò più con te se non la smetti di mangiarli non voglio un ragazzo grasso cosa pensi che direbbero le mie amiche? probabilmente ecco il papero grasso ma felice molto bene dieci minuti dopo bene nessun segno di Paperina e quindi c'è Paperino che ritorna alla gelateria di nascosto voglio un gelato extra large al cioccolato con guarniture di panna marmelata e tutto il resto oh siete un vero intenditore voi ed ecco ecco la sorpresa mentre Paperino si avvicina al tavolo per gustarsi il gelato ecco chi la trova chi trova trova Paperina e lei un po' invergognata ecco dice Paperino quindi abbiamo visto la fine sempre la parola fine quindi Paperina l'aveva criticato tanto però era lì che faceva la stessa cosa da questo disegno poi vedete questo fumetto poi è dato abbiamo fatto molti esercizi su questo fumetto i principali praticamente è quello di cancellare questi cancellare le battute dei personaggi e chiedere agli alunni di riempire di creare i dialoghi dallo zero quindi cercano di interpretare quelli che sono i movimenti i disegni dei personaggi per capire che cosa sta succedendo che cosa stanno dicendo altri esercizi sono anche quelli di tagliare queste vignette questi quadri quadretti e di metterli in ordine sparso e chiedergli agli alunni di mettere in sequenza nella sequenza corretta da questo disegno da questo fumetto abbiamo fatto una versione a quell'epoca con gli alunni poi vi mostrerò gli alunni sono tutti amici miei qui di Nova Friburgo abbiamo fatto una specie di versione di questa storia appunto di paperina che torna alla geletteria lo sorprende e così via ho fatto con una classe di italiano lì nella casa d'Italia di Nova Friburgo tanti anni fa eravamo nel 2003 ecco vi mostro il risultato il risultato poi è stato presentato a Venezia quando ho presentato il risultato della mia tesina per concludere il master abbiamo chiamato Pizza Pazza e mi ricordo che abbiamo fatto queste fotografie lì a una pizzeria qui di Friburgo Pappion va bene quindi ecco la Pizza Pazza ecco il primo il primo disegno l'abbiamo abbiamo chiamato questo di photoclip ma praticamente ricordava ricordava il quei fotoromanzi no fotonovella che c'erano una volta ecco qua quindi c'è il cameriere scusi signore le basta una fetta no risponde Luigi ecco qua la voglio tutta e in quel momento chi ha fatto chi ha pensato di anche scrivere le battute sono stati gli alunni ecco qua Giovanna dice disgraziato non posso credere che tu sia di nuovo qui a mangiare questa pizza gigante ma te l'ho detto tante volte che stai diventando una balena ma cara è la miglior pizza della città perché non ne mangi uno anche tu neanche per sogno sei pazzo andiamo via ma cara almeno lasciami finirla alcuni minuti più tardi bene nessun segno di quella pazza scatenata cameriere vuole un'altra pizza come quella certo signore subito giovanna ma come tu qui ops giovanna dammela no non te la do è mia molto bene quindi questa è stata la versione degli aluni che hanno appunto reinterpretato il tolgo reinterpretato il fumetto di Pappelino facendo questa specie di fotomontaggio una fotoclip quasi una fotomodella quindi ecco questo era il nostro modo di come dire commemorare la settimana della lingua italiana nel mondo in maniera molto semplice ricordando allora la bellezza del fumetto di imparare una lingua attraverso i fumetti per chi è professore per chi magari insegna l'italiano insegna qualsiasi altra lingua è fantastico ancora oggi nell'epoca nel 2003 2002 è stata una fatica riuscire a trovare una macchina digitale macchina di fotografia digitale ma oggi è molto più facile oggi abbiamo tanta tecnologia quindi si possono fare tante attività con gli allumi e anche il fatto di ecco fantastico il fatto di poter il mio consiglio a tutti quelli che stanno imparando la lingua italiana l'Italia ha una tradizione molto grande di fumetti ci sono tantissimi di vari tipi per tutti i gusti come si può dire e oggi giorno è facile avere l'accesso ai fumetti anche attraverso internet quindi è una è una è una diciamo così è un'alternativa è un'altra opzione che avete per imparare la lingua italiana quindi viva viva la lingua italiana e viva i fumetti va bene grazie ragazzi ci vediamo la settimana prossima ciao ciao ciao